Per qualche giorno ha scelto di non parlare il geriatra Mino Dentizi dopo che il sindaco di Campobasso Roberto Gravina gli ha revocato l'incarico di presidente della casa di riposo Pistilli di Via delle Frasche a Campobasso, ora ha replicato a un video proprio di Gravina in cui il primo cittadino ha spiegato i motivi della decisione della revoca sofferta, dichiarato perché mai sono state messe in discussione le competenze e la professionalità di Dentizi. Non c'è stata mai nessuna condivisione su nulla per quanto riguarda le scelte gestionali, la rendimentazione e l'andamento economico e ribadisco ancora una volta la figura di un direttore sanitario che è fondamentale in una casa che ospita tanti anziani e quindi persone fragili, dovuto addirittura a conoscere dai giornali del cluster che è esploso all'interno della Pistilli. Dentizia dunque ha rotto il silenzio e voluto fare delle precisazioni in particolare sulla debito della mancata nomina di un direttore sanitario. Le case di riposo, ha detto, per poter funzionare devono essere accreditate per ottenere l'accreditamento, devono rispettare precisi e inderogabili requisiti strutturali, organizzativi e di personale. I comuni che ospitano le case di riposo, ha continuato Mino Dentizi, sono deputati alla concessione dell'accreditamento e alla verifica periodica del rispetto delle normative stabilite dalla regione. Il geriatra ha precisato che la casa di riposo Pistilli di Via delle Frasche è stata accreditata dal comune di Campobasso. Se il sindaco ritiene che non rispetti gli standard organizzativi e di personale e l'interrogativo di Dentizi, perché non procede alla revoca dell'accreditamento? Ma non può farlo, ha continuato, perché la struttura rispetta quanto richiesto dalla normativa regionale, in cui non è previsto assolutamente il direttore sanitario. Infatti nessuna casa di riposo in Molise ha aggiuntone a uno, ma prevede che la direzione debba essere affidata a un assistente sociale. Figura che la Pistilli ha. Di qui l'invito di Dentizi al sindaco Gravina di rileggere o leggere per la prima volta il regolamento regionale e in particolare l'articolo 51. Per ora ci fermiamo qui. A concluso.